Il Lago di Como è un gioiello incastonato nel cuore delle prealpi lombarde. Conosciuto in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e storiche, ha incantato e incanta da oltre 2000 anni illustri e colti viaggiatori, antichi viandanti e moderni turisti. Nella zona meglio conservata dell'Alto Lario, a Dorio, fra l'affascinante nucleo medievale di Corenno Plinio e la penisola di Piona, su un breve tratto di costa, esposto a sud, è sorto il Residence Oasi dei Celti. Il Lago di Como L'accurato progetto architettonico rispecchia l'armonia del paesaggio. Accoglienti e confortevoli appartamenti con terrazza vista lago sono inseriti in graziose costruzioni intorno alla piscina e al solarium. Il Lago di Como Il Lago di Como 4, 6, 8 posti, tutti attentamente arredati, provvisti di comfort e prenotabili per un weekend o per intere settimane. Una vera casa da vivere in tutta libertà per una vacanza dal gusto esclusivo. La posizione del Residence Oasi dei Celti permette in ogni stagione dell'anno di vivere grandi emozioni. Per i cultori del bello, storia, arte e fede hanno cesellato qui nei secoli angoli di incomparabile suggestione. Il Medioevale Nucleo di Coreno Plinio con il suo castello L'abbazia Cluniacense di Piona, uno dei più celebrati monumenti del lago. Villa Monastero ed i suoi giardini a Varenna Il Forte Fuentes E il Forte Montecchio a Colico Gravedona I bellaggi E ancora i paesaggi visti dal lago, la magia dei colori, il ritmo delle onde. Agli amanti del Beard Watching, l'oasi naturalistica del Pian di Spagna offre belle osservazioni in un'atmosfera sospesa e silenziosa. I più sportivi, ovviamente, possono praticare tutte le attività acquatiche. L'Alto Lago di Como è un vero paradiso per vela e surf. Per quanti preferiscono la montagna, una ben curata rete di sentieri offre la possibilità di effettuare escursioni brevi o impegnative sui monti lariani e valtellinesi, a piedi o a cavallo. E ancora vie ferrate, belle arrampicate fra le spettacolari guglie di Dolomia, delle grigne o su granito, bultering e canyoning. D'inverno, in pochi chilometri si raggiungono poi eccellenti e spettacolari piedi. Il Residence Oasi dei Celti si offre quindi come punto ideale per le vostre vacanze, siano esse romantiche o sportive, contemplative o dinamiche. E la vasta gamma dei servizi garantiti alla clientela renderà ancora più speciale il soggiorno all'Oasi dei Celti. Fra questi il bar, la dinamica Brasserie, dove gustare carni, pesce e verdure alla grilla. E il ristorante La Montagnetta, dove lo chef saprà condurre, in un'atmosfera intima e raffinata, alla piacevole scoperta delle specialità enogastronomiche, locali e internazionali. Il ristorante prepara inoltre eccellenti piatti da asporto, da gustare nel corso delle vostre gite o nei vostri momenti di assoluto relax. C'è tutto, vi aspettiamo! Grazie a tutti!